Ecco, vediamo, però è anche vero che gli fralla l'avversario, gli fralla proprio sul piede mentre sta tirando, qui ci sono Antonio, tutti gli estremi. Sì, diciamo gioco che non stiamo a giudicare, però anche in questo caso ha dato una palla d'oro. Qui c'è un gol all'allato, è fuori gioco, l'ho rivisto, è fuori gioco. Però ha fatto poi un gran gol di un mazzo, Sergio, davvero il giocatore, anche lui, come Dattiglio, di altre categorie, ma sono tanti qui, come Spicuzza, Landolso, insomma, Lopedrone. Pozzoli segnano in panico lo scambio con Dattiglio, rigore netto, rigore nettissimo, qui l'arbitro prende una svista. È la seconda volta che viene ammonito con il rigore netto. Qui l'arbitro prende una svista enorme, è vero di Diba, guarda che rigore, vedi di dettagli, giocare con i dettagli che cosa significa. Qui c'è un rigore, sembra quello dei Tottenham di Unve, questo rigore. Diciamo che Capozzo le fa spesso questi movimenti, forse l'arbitro ha pensato che... Qui il rigore è netto, sì. Poi arriverà il gol a fine gara, qui c'è il rigore netto, qui c'è un rigore... Il fallo di Manto. Stato sferico, anche in queste circostanze, come ha fatto l'arbitro a non vedere questo fallo di Manto. Oh, posso fare la palla a volo, però, dai. Qui il rigore netto, l'arbitro non fischia, però c'è Landolfi. Grande Gianmarcuno. Qui è stato bravo Bozzi a capire l'intenzione del retropassaggio a portiere ed è stato veramente... Eccolo qui Gianmarcuno. Bozzi, secondo me, è diventato un giocatore determinato.